L'Europa è qui, nel mio progetto, nella mia azienda, nel nostro cluster, nel nostro tecnopolo, nella mia città, nel mio progetto, nel mio lavoro, nella mia casa. L'Europa è qui, al fianco delle persone e delle imprese, che in Emilia-Romagna acquisiscono nuove competenze e sviluppano innovazione. Grazie ai fondi europei, tante persone e tante imprese realizzano i loro progetti. L'Europa è qui, in Emilia-Romagna. Scopri i volti e le storie sul sito della Regione.